attenzione c'è stato un cambiamento nella card di vrestalmania edge contro edge styles infatti ci dice il wrestling observer dal day 2 passa al day 1 io ovviamente vado sempre quando posso a controllare le cose questo è lo spazio web ufficiale della wwe e guardate vrestalmania saturday quindi sabato e c'è proprio edge contro edge styles la cosa però non è stata ancora cambiata in tutte le grafiche anche qui sono andato a vedere a controllare guardate qua è segnata sunday april third quindi 3 aprile quindi c'è un po di confusione ma in generale questa cosa prima non c'era c'è stato un cambiamento quindi magari il sito web deve ancora adeguarsi a tutto quanto di conseguenza le card sin cui diffuse a parte i match fondamentali come roman reigns contro brock lesnar o charlotte flair contro ronda rousey ecco le card prendiamole con le pinze perché la sensazione è che wwe le stia ancora calibrando nel migliore dei modi spero soprattutto negli incontri chiamiamoli non di cartello ma comunque di contorno e che contorno